Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! In un ambiente che appunto si rifà a tutti i racconti di Conan, quindi avete di fronte a voi una mappa immensa, veramente immensa, ed è un gioco che nasce strettamente per essere multiplayer, ma al contrario di altri titoli, se andate come ho fatto io a cercare quanto sia godibile in solitaria o godibile con amici, 1, 2, l'ideale, secondo me potrebbe essere 4, il gioco nessuno vi dirà che, almeno io non ho mai letto che il gioco è assolutamente proibitivo, può essere più proibitivo in endgame perché ci sono i boss, ci sono i dungeon, ci sono una sorta di ride, quindi insomma non è una passeggiata, ma il gioco resta comunque godibile. Ora, io sto raccogliendo un po' di cose perché adesso io sono morto, io sono andato qui, ho trovato delle rovine del sussurro a morte, il gioco è completamente tradotto in italiano, i nomi dei luoghi sono molto belli, ci sono gli NPC, ci sono tanti nemici, tantissimi nemici, avete la possibilità di configurare la vostra partita single player o cooperativa o addirittura acquistare un server seguendo quelli che consiglia il gioco, lo pagate, se lo fate per due persone, lo pagate circa 5 euro mensili, 13 euro, 3 mesi, quindi insomma non ha dei costi proibitivi, se invece volete ostare voi con la vostra connessione, ormai con la fibra che dilaga, è una cosa penso che fattibile, lo potete fare senza ostare, ma la cosa bella, come si faceva già in ARC, era appunto di creare un mondo persistente, in modo che qualsiasi vostro amico possa loggare e fare la propria avventura, insomma continuare magari la costruzione del villaggio, anche perché un grosso limite della partita in cooperativa, là ci sono nemici che mi fanno a pezzi, è il fatto di dover stare sempre comunque molto vicino all'host, questo è un grosso limite, cioè se io adesso dovessi morire e non avessi il letto dove sono nato, lì all'interno della casa che ho costruito, ma dovessi essere ritrasportato all'interno della zona iniziale, che è quella nel profondo deserto, perché voi venite condannati per svariati crimini, che vi vengono determinati in random alla creazione del personaggio, voi tornate lì e il vostro amico che si trova magari in ARC da tutta l'altra parte, ma sempre comunque vicino a voi, prima che voi appunto moriate, lui verrà teletrasportato dove voi venite diciamo fatti rinascere con la frase non puoi stare troppo lontano dall'host, ecco questo è un limite dell'host diciamo su pc singolo, insomma, se lo state voi, io sto ostando, sto giochicchiando con Ibu e io a un certo punto sono morto, adesso noi eravamo più o meno qui e io sono rinato qua, la strada degli infelici, quindi insomma, di cose da dire su questo gioco poi ce ne sono, perché potete crearvi i vostri tavoli, allora, iniziamo con ordine, perché da dire ce ne sono tante di cose come ho detto, allora, avete la possibilità di... qua una manciata di insetti che morire tra 8 minuti, allora, praticamente voi avete il vostro inventario in cui è racchiuso il crafting base che potete fare, quindi io posso adesso andare con la pietra e i rami che ho raccolto a craftarmi una pietra, perché ho perso tutto, ho perso tutta l'armatura che avevo. Ora, con l'accetta potete andare ad abbattere gli alberi, i primi alberi, l'abbattimento degli alberi vi porta all'ottenimento di legno e il legno poi serve poi sempre per... vabbè, potete raccogliere, nei cespuli raccogliete le fibre, le fibre all'inizio del gioco sono importantissime, ad esempio adesso io vorrei farmi anche una spada di pietra, perché non dovrei difendermi in qualche modo, e vorrei farmi anche dei vestiti, quindi questo. Ogni vestito si presta bene per un tipo di temperatura, perché ci sono dei luoghi poi dove potreste soffrire il freddo, il caldo. Avete la fame e la sete, come succede anche in ARC, la sete la abbassate subito buttandovi in acqua o, se siete sulla terraferma, lontani dall'acqua, potete farvi la borraccia, che è questa, e mangiare invece potete uccidere i nemici. E come succede su ARC, potete luttare i cadavere dei nemici colpendoli o col piccone o con la laccetta, e quello determinerà l'ottenimento più di carne o più di pelli. Ora ho fatto anche la piccozza, quindi con la piccozza posso andare a scavare. È molto bella perché si frantuma tutto, le rocce si rompono proprio al vostro colpire, e quindi ottengo questo. Poi avete modo anche di fare il martello per le riparazioni o il martello per la costruzione. C'è una grossa differenza, adesso mi serve spago. Per fare lo spago, devo fare lo spago, faccio 3 di spago, se riesco. Vediamo se riesco adesso a fare il martello da costruzione. No, mi servono 5 di spago e non ho abbastanza fibre vegetali. E come vi ho detto è molto proibitivo all'inizio perché adesso là ci sono delle cose. Allora, voglio farvi vedere il menu. Il menu è appunto l'inventario con quello che avete, e c'è un limite di peso ovviamente. Quando vi troverete circondati nei nemici, magari siete già quasi sovrappeso, vi danno un debuff, diventate pienamente in sovrappeso, camminate due all'ora, lì morite per certo, e quindi vi farà responare dove c'è la vostra branda o il vostro saccopelo. Adesso questo è il mio, ed è il punto di respawn. Dopodiché, qua avete il crafting base, quello che fate senza i tavoli, insomma. La conoscenza è molto importante perché la conoscenza la potete acquisire con i punti che avete usato e che avete accumulato magari durante il livellamento. Si livella sia a livello di uccisioni, gathering e cose varie, ma anche semplicemente stando online. E la chiave per giocare una partita equilibrata anche in single player o in cooperativa, quindi non su un server massivo, è quella di settare correttamente, magari facendo dei test, i vari moltiplicatori di esperienza, di esperienza da uccisione, da gathering, eccetera. Quelli in verde sono quelli che ho preso, gli altri li potete invece apprendere, prendendo, vedete qua li posso spendere. Quelli invece con il simbolino verde sono... Alcune sono con i DLC, quindi è un gioco basato purtroppo sui DLC. Avete modo anche di andare a vedere, qua abbiamo le pietre, la costruzione, tutto quello che abbiamo preso sulla costruzione che invece dobbiamo acquistare. No, in questo caso non è il DLC, credo che il DLC sia quello con... con un altro simbolo. Vabbè, comunque avete le decorazioni, avete queste appunto le decorazioni, avete la sopravvivenza, anche se questi sono molto importanti, io adesso non so fare i letti, quindi potrei fare il letto semplicemente con un martello da costruzione, io adesso lo apprendo. Avete le armi, che potete andare a poi prendere e sbloccare. Ovviamente qua serve un banco del maestro di corazze migliorato, quindi mi serve un tavolo non a livello base, ma a livello migliorato. Qua avete le corazze che potete craftare. In questo caso non posso sbloccarlo. Non vorrei forse... No, mi serve il tessitore, che attualmente ce l'ho, ma questo, tessitore esperto, non ce l'ho. Avete la religione, perché in gioco non ho ancora approfondito e sarebbe stupido dirvi che lo so giocare. C'è tutta una base anche di religione, in cui voi potete fare tale mille cose anche la religione. La stregoneria, la conoscenza ancestrale e tutto il riassunto di tutte le conoscenze che avete. Qua potete invece cercare una singola conoscenza. Avete le caratteristiche, che anche qui può cambiare a livello di forza, agilità, vitalità, autorità, grinta e competenza. Avete le statistiche del vostro personaggio, con tutti i danni che fate in base all'occupaggiamento. Potete scrivervi la vostra biografia. L'avventura invece è solo una serie di quest che vi guideranno. Questa sezione è cambiata molto nel corso degli anni, perché il gioco è uscito da cinque anni quasi. E andando avanti con le varie missioni c'è una sorta di storia che vi guida. Allora arriverete in endgame a poter magari addomesticare, oltre che le mount classiche che ci sono durante il gioco, potrete anche addomesticare dei griffoni e volare per il mondo. Avete le varie quest, insomma ci sono delle missioncine da fare. E poi potete andare a fare le varie cose. Vedete, potete fare la cera, il conciatore, l'alchimista. Queste sono tutte, diciamo, delle professioni che potete andare a fare. Potete crearvi il clan all'interno del gioco e potete avere anche dei seguaci, nonché degli schiavi. E gli schiavi ci sono... Adesso vado a prendere un po' di fibre e vi faccio vedere. Perché potete, la meccanica non so ancora come funzioni, ma potete mettere dei vostri schiavi che magari prendete a lavorare per quanto vostro. E quindi vi produrranno costantemente delle risorse. Questi non sono sicuramente amichevoli. Adesso vedo se posso evitarli. Il combattimento è un po' stile Souls perché si rotola. E non tutti gli enepi ci sono nemici. Ora, se voi siete dei pionieri di questo gioco, fatemi sapere che sono ben felice di condividere con voi esperienze. Questi non attaccano. Questi qui sono dei guerra fondari. Vabbè, io intanto li ignoro. Li uccidiamo dopo. Li lascio indebolire addosso quei nemici lì. Graficamente è molto bello. Il gioco pesa un'ottantina di giga, se non ricordo male. Quindi non è leggerissimo. Gira piuttosto bene invece. È scalabile come grafica. Quindi sto raccogliendo di tutto, di tutto, di tutto. Ovviamente è un gioco che richiede comunque dedizione, affiettamento con i compagni con cui giocate. Se decidete invece di giocare sui server ufficiali, insomma dovete fare attenzione anche a dove mettete il vostro accampamento, il fatto che magari possano darvi fastidio. Ora, voglio vedere se quello lì mi vuol fare la pelle o meno. Ne è rimasto uno solo. E mannaggia, ha una lancia. E quindi la lancia non è proprio il massimo. Io ho la spada. Avete col tasto destro la super mossa. E la stamina. Ora, non farò vedere cose strane. Lo luto semplicemente a un maglio. Più che altro perché potete anche prendere la carne, ma è una cosa che preferirei evitare. Allora, abbiamo preso un po' di fibre. Ecco qua, posso andare col piccone e prendermi. No, io vorrei andare con l'accetta. Così mi prendo più carne. Eh, mannaggia. Hanno fatto un po' una strage qua di cose perché hanno attaccato tutto quello che non si muove. Questo è lui. Voglio vedere. C'era anche il suo socio in giro. Potete farvi l'arco, andare a caccia, insomma. E le ambientazioni cambiano perché se guardate la mappa ci sono deserti, foreste. Insomma, è la classica ambientazione di Conan. E della Fancom, gli stessi che avevano fatto il gioco di MMO, RPG, Conan, Age of Conan, scusate, che di cui ho la Collector in libreria. Quando l'avevo comprato ai tempi, forse era il 2008-2009 quegli anni lì. Allora, adesso devo fare ancora. Ok, dovrei poter fare adesso il martello. Lo faccio perché l'ho perso. L'avevo. Ok. Col martello potete andare a costruire varie cose. Con F andate a vedere, potete fare elementi di costruzione. Questa casa l'ho costruita io. Con la postazione di creazione potete fare i vari elementi. Fa legna Maria il banco d'artigiano. A religione il santuario di Mita. Vedete che ve lo fa piazzare dopo. Ora, avete anche le decorazioni con le scatole di legno, che vi chiedono comunque diverso spargo e diverso legno. Letti. Adesso io avevo ricercato il letto, potrei fare il letto, ma il letto mi chiede un po' di pelle, che non ho. Le luci anche. All'interno, adesso vorrei uscire dalla modalità così. Ok. Sta diventando notte, tra l'altro. Molto bello, perché si vede là il fuoco di un altro accampamento. E vediamo un attimo. Qua ho un po' di roba. Ho un diario di cuoio, che non so cosa sia, onestamente. Informazioni. No, scusate. Questo. Informazioni. Perché è basato anche sui ritualismi, questo gioco. Quindi avete tanti oggetti, vittici, cose varie. Poi, come vi ho detto, ci sono i seguaci, che potete reclutare. La mappa, come ho detto qua, è tutto deserto, qua è più foresta. Si va sui ghiacci dopo. Le sfide che potete affrontare. Che possono essere rirollate, insomma. Ci sono delle sfide da fare che vi danno dell'esperienza, se la fate. Il pass battaglia, ahimè, è il classico contenuto a pagamento che c'è all'interno del gioco. E questo è il bazar in cui potete andare ad acquistare con, acquistando le monete di chrome e poi spendendole in gioco, ottenere determinate cose all'interno del gioco. Questo è, ahimè, il gioco. Nelle sue parti, diciamo, più, non so perché me lo dia in rubli qui. Quindi, comunque ci sono un sacco di espansioni. Quindi, se amate Conan, se amate i giochi di questo tipo, quindi stile Ark, ma con la brutalità di un'ambientazione da Conan, può essere interessante. Allora, adesso, vedete qua, potete abbinargli uno schiavo. Adesso io posso mettere all'interno, accendo il fuoco, che c'è dentro l'egname, e la carne inizierà a cuocere. Quindi mi darà, ah, ecco, bistecca grigliata. Ah, ho già della bistecca grigliata, quindi posso anche spegnere il fuoco. Mi mangia la mia, credo. Fammi vedere. No, dovrei averla presa. No? No, allora. Metto la legna, accendo. Ok, qua mi sta, ok, mi ha creato brandelli di arrosto. Mi sta creando la prima. Ok, prendo tutto e spengo. Adesso questa, clicco col destro, me la mangio. E in alto, infatti, vedete che la fame e la sete sono al massimo. Il peso è medio e la temperatura, anche lì, siamo a medio. Qua abbiamo, anche qui, schiavo che possiamo abbinare qua, e le varie ricette di creazione, di cui io però, sulle corazze, non ho nessuna abilità. Tavolo da artigiani, invece, posso fare il tavolo normale, il letto a due piazze, insomma, e altre cose. Ciotole di legno, cuscini, vale varie. Il letto stigiano. Ci sono diverse razze che potete fare, anche diverse religioni. Ripeto, c'è una profonda, diciamo, sezione di gioco riguardo a santuari e religione, di cui io però non so dirvi nulla, perché non l'ho approfondito. Adesso io mi faccio queste fibre. Poi il gioco è godibile anche da soli. Ovviamente è stupido dire che sia l'ideale da soli, perché non lo è. Adesso mi sono un po' curato. Prendo la spada. Potete arrampicarvi anche sulle montagne. Ed è uno dei tooltip del gioco. Vi dice, arrampicatevi dove, diciamo, arriva la vostra curiosità. Potreste trovare delle cose inaspettate. Il mondo è fatto veramente bene. Qui si chiama le sentinelle, perché appunto ci sono due sentinelle enormi, che sono queste due, che ricordano l'oracolo della storia infinita. Questo non è un nemico. Con la X metto via. E con questo tizio qui possiamo parlare. Ho imparato da lui una reazione, un'emote. Posso parlarci. E mi raccontano. Ma al momento non c'è altro. E da quello che io so, se uccidete gli NPC, questi rispondono. Quindi sarà da vedere, come curiosità mia, insomma, se ci sono delle città e che cosa si può fare in città. Perché il gioco incentiva ampiamente il fatto di cooperare con tanta altra gente. Ma, ripeto ancora, chi ne parla di questo gioco, chi ci gioca da tante, tante ore, non lo ha mai bocciato come un gioco ideale per il cop o il solo. Sicuramente è meglio il cop. Se avete un amico, due o tre, insomma, in quattro in totale, secondo me è l'ideale. In due si soffre un po' di più. Ma basta toccare i modificatori dell'esperienza per fare abbastanza esperienza. Potrebbe essere, appunto, molto interessante. Intanto io ho completato l'avventura, no, le sfide, credo, di accoglitore. Posso rigenerare le sfide? Va bene. Sì, perché mi è uscito prima che ho completato qualcosa. Comunque io ho dei punti da spendere, quindi potrei spenderli in fasce curative. Posso. al banco dell'alchimista. Ma in realtà io non ho il banco dell'alchimista, quindi dovrei andare su costruzione, muratore qualificato o no, maestro muratore, a cui non abbiamo, frontiere, no, c'è un sacco di roba che non posso prendere, perché? Beh, no. Mi cercare veramente di lc questo. O forse mi chiede muratore qualificato. Posso sbloccarlo. Mi chiede 5 punti. Però vediamo un attimo. Muratore aquiloniano mi chiede questo. Maestro muratore. Utensili d'acciaio. Devo prendere anche quell'abilità lì. Utensili di ferro. Eh, sono tante cose da fare. Utensili di pietra. Eh, devo sbloccare un sacco di roba. Creatore di pozioni. Interessante. Mi serve bracere. Che sblocco. L'alchimista. Mi si è attivata anche l'abilità alchimista. Quindi interessante, perché il bracere, io voglio fare il banco dell'alchimia. Il banco dell'alchimia non lo posso fare perché mi serve utensili d'acciaio. Utensili d'acciaio chiede appunto, come ho già detto, utensili di ferro. Utensili di pietra. Li posso già fare. Non lo so. Devo approfondire la cosa. A parte che utensili di ferro li posso già fare. Vabbè. Intanto vediamo se con il tasto 8, quindi questo, posso fare altre cose. Tavolo di fusione. Ok, si è sbloccata l'alchimia. Posso fare il banco dell'alchimista. Mi servono 10 lingotti di ferro. Il bracere. Stessa cosa. Tra l'altro, per fare il ferro bisogna andare in giro. L'avevo trovato prima di morire. Sono morto, ucciso da dei ragni in un dungeon. Quindi, ci sono anche i dungeon. Sono abbastanza anche carini. Intossicazione elementare perché ho mangiato troppo. Ho sbagliato a cliccare. Vedete che qua, mettete dentro la pietra, ottenete il mattone. Ma se mettete il ferro che trovate in giro, fate i lingotti di ferro. E quindi, probabilmente, non ci sono grossi problemi vista la fauna per ottenere il cibo. E anche meno l'acqua. Almeno, qui di acqua ce n'è. Poi andando dentro diventa un pochino più complicata la cosa. Quello protegge le uova. Ah, ma ce n'è un altro anche dietro. Ho finito la stamina, quindi bisogna fare attenzione a farla ripristinare. Tra l'altro, se muoio non è un gran problema perché rinesco là in casa. Però è un problema che siano arrivati qui dove ho la casa. Adesso devo prima spienare quello. Ok. Uno è andato. Adesso aspettiamo la stamina per far fuori l'altro. Poi dopo un po' potrebbero anche iniziare a scappare. Ok. Prendo l'accetta e faccio carne. Ok. ma anche la pelle mi interesserebbe. Quindi prendo il piccone perché la pelle mi serviva andrebbe conciata la pelle poi. Vediamo. Per fare il letto credo serva lo spargo. La pelle ce l'ho. Potrei fare la borraccia. Ma vediamo se il letto lo posso fare ma dubito. E qua santuario no. Assolutamente là. vediamo legno isolante molto interessante anche per il fatto del calore. Il letto ho la pelle mi manca lo spargo 5 di spargo ma tecnicamente potrei farlo. Quindi vediamo un po' se posso farlo. 4 non ho abbastanza fibre tanto sta craftando metto via vediamo se c'è dello spago qui dentro ma dubito che qualcuno sia così folle da mettere dello spago dentro. non ho abbastanza materiali per fare il letto mannaggia più bello da vedere ma niente di che si mi manca uno di spargo niente ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di Conan Exiles se vi interessa vedere qualche altro video insomma o se vi ho incuriosito il gioco non costa senz'altro poco perché costa 39 euro ma se pensate magari trovarlo o scontato o vi interessa vi piace la cultura diciamo di Conan mista a un gioco come Ark beh potrebbe essere il vostro gioco insomma è già uscito comunque da 5 anni ha avuto diversi stravolgimenti ed è tradotto in italiano bene tra l'altro fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima ciao ciao